Ora ho trovato questo ragazzo qua che ha veramente una moto che fa un bordello allucinante Volevo rendergli omaggio perché hai veramente uno scarico illegale A parte il portatarga che è un po' troppo inclinato Ora siamo sulla statale vicino a Borgo Valditaro Che la spezza, Parma, Parma mi serve Seconda uscita L'ha impennata, non ci credo Sei un pozzo Sono su una statale in cui la gente si scanna Se tu vai a meno di 80 la gente ti mangia vivo E sto andando ai 100 e le macchine mi stanno dietro Mi vogliono superare Siamo non so dove Dovrò anche fermarmi presto Nonostante il tupolino mi sta arrivando del vento pazzesco Valmozzola Ecco ora sappiamo anche dove siamo Ok mancano 102 km all'arrivo a Maranello Sono abbastanza approvato per adesso Case pesci Ma ragazzi datevi una svegliata Che non mi state dando Io faccio un paio di chilometri In tranquillità E in santa pace La batteria scarica Quindi ci becchiamo Tra poco A dopo Niente La GoPro Se gli dico di iniziare a registrare Non lo fa perché gli sta l'antipatico Però ne approfitto Per rifucinarlo Vado al miglior modo Se no Panini Questa lattina È veramente stupenda Però io le compro tra un po' più per le lattine Per come sono fatte le lattine Che per il contenuto Dovremmo essere a Parma Sulla Cisia Non so se si chiama via Strada nazionale della Cisia Guardate con quel tendino Vediamo come il prosciutto comprato dalla Conrad A Parma Qualità doc 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 Col suono di poi Avrei portato le borse Anche perché Questo già è va Spesa troppo Oddio Stasera dormito come un maiale Non ho ancora fatto benzina Da quando sono partito Niente Io penso che Finirò di mangiare Starò un attimo qua A meno mezz'oretta Ciao 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 Mi sono scordato una cosa molto importante Di fare la reaction A questa roba qua Monster Con qualche Cancro In fin dei conti Siamo arrivati La cosa buona È che io ho registrato Guarda i moscerini che ci sono qua Stupendi Bellissimi Io ho registrato già Dall'entrata Di Maranet Praticamente da Sassuola Ho registrato Ho iniziato a registrare Solo che la mia GoPro Ha deciso di non registrare niente Errore della scheda memoria Buono La cosa bella Qual è Il museo è chiuso Avevo qualche Qualche dubbio Però che fosse chiuso Questo è veramente bello Tra poco si riparte E si concluderà il viaggio Da me E da Cristina Per adesso è tutto A Krapovic Ciao Ciao Ma chiudono sempre prima il museo Ah può essere Ci credi che sono venuto da Genova Ed era chiuso 15.22 vedo Gentilissimo Ho fatto lo sconto Di addirittura Duecentesimi Te lo devo ricordarmelo Appena scendo Dalla Dalla moto Di farvi vedere Quanti moscerini Ci ho Ci facciamo altri 18 chilometri Fino a casa Poi dopo domani Che è domenica Si riparte Per Genova Guarda poi quello lì Quei ragazzi lì La Formula 1 Ciao giovine C'è ancora due stagionati Da pisciare Sei morto Cazzo lo fai Ma è a casa Qualcuno ha notato Il fatto che C'havano i finestrini Chiusi Come chiamiamo Staserie Un Ligure a Modena Un Moldava a Modena L'Otmodena Un po' Troppo Mainstream Cioè Un Ligure a Modena Vedo Vedo casette Non vedo Palazzi Come a Genova Poi magari Più in centro Belin Cioè Sono dei palazzoni Enormi Aio Svegliati zio Come? Questa benzina Mi deve bastare fino a Chiavari Belin Comunque 15 euro Onesto Questa moto Con un consumo Ha proprio un cazzo Sto con la Jeep Non ce la fa proprio Dai dai Pass Pass No perché per i bimbi speciali Ci vuole Ci vuole un trattamento speciale E tant'è che vai a finire dietro zio Mi spiace Però è così 11 minuti Aiuto Sono stanco Ah pure loro Devo passare Comunque il rumore Della nuova MT Ve lo giuro Ma mi fa impazzire Tira dei pop corn Pazzeschi Allucinanti Bellissimi Non sono bello Nel cambio marcia Boom Boom C'è la Mercedes E c'è la Yamaha Come la mettiamo? Sciuoli di merda Ah ok 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 C'è una bella palma Lì quello lì in testa Mamma mia Un ananas Dai faccia andare Porca la Lo fammo? Lo fammo? Lo fammo casino? Questa moto È un gioiello Ma Ce la facciamo Entra domani Come sono fatti I semafori a Modena? Sono messi d'accordo Con gli UFO C'è qualche complotto? È stato il 5G 385 Eeeeee 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 Eccolo lì Oh no Dove Minchia parcheggio La moto Alo Motoscleia ta Un spate Parcat Eu sub casa Aici Ah Bun Hărășo Da vai Eu volevo far vedere Comunque Lui Muzica Un spate